Siamo con Viviana Curillo, responsabile marketing di Smartbox, siamo qui oggi da Bagel Factory che è un nostro partner per presentare le novità di Smartbox di quest'anno, 2013-2014. Quindi parliamo sicuramente di cose divertenti, di cose interessanti, di regali, di queste meravigliose scatole, di queste Smartbox intelligenti che contengono delle proposte di viaggi, di assaggi, di eventi sportivi e adesso vi raccontiamo le novità. Le ultime novità, Smartbox è un pofanetto regalo, siamo leader nel mondo del pofanetto regalo e oggi presentiamo appunto le novità che vanno sia nell'universo gastronomia con una cucina dal mondo, che è un pofanetto che permette di avere cene per due persone a base di menù esotici, mettiamola così e poi abbiamo tante novità. Ecco, facciamo una carrellata insieme a te delle novità, insieme ai sedi. Allora, questi sono i cofanetti multiattività, quindi racchiudono varie tipologie di attività all'interno dello stesso cofanetto. In questo caso abbiamo una giornata per noi, 24 ore e 90, sono attività di benessere e di degustazioni per due persone. Quindi diciamo anche che c'è un prezzo, un costo interessante per potersi permettere anche in questi momenti così, insomma, non proprio sempre smart, di avere un momento di sorriso e qualcosa da godersi. Assolutamente. Poi andiamo a... All'interno dell'universo abbiamo anche lanciato un mille divertimenti che raccoglie più di mille divertenti attività, sempre per due persone, a base di benessere, di degustazione e di momenti sportivi. Ma all'interno c'è anche arte e cultura, musei, insomma un mix. Quindi molto da proporre. E poi passiamo all'universo soggiorno benessere. Eccoci qua. Ma sai che è questo posto? Con gustosa e rilassante evasione, 179,90 euro. E un cofanetto che racchiude più di 160 hotel 3-4 stelle per una notte con cina e percorso benessere. Quindi un pacchetto veramente completo. Ecco, poi abbiamo l'iniziativa di soggiorni e sapori, se vi faccio vedere che ci racconti. All'interno di soggiorni e sapori abbiamo lanciato un cofanetto per un attimo di due cene. C'è un pofanetto con due notti e due cene. Quindi è veramente un cofanetto completo e la persona a cui si regala non deve sostenere ulteriori spese per godersi il proprio weekend. Siamo nei soggiorni? I soggiorni sono il nostro universo più importante dove abbiamo una vasta gamma di offerte, circa una trentina di cofanetti. E quest'anno per animare questo universo, che è il nostro universo bestseller, abbiamo deciso di lanciare una nuova tipologia di progetto. Quindi non più solo soggiorno con colazione, ma anche con una rilettante attività da poter usufruire all'interno dell'albergo, dell'agriturismo e dell'agriturismo. Quindi per esempio, fuga con divertimento a 74,90 euro. È composto da una notte in hotel 3 stelle con colazione e magari un corso di cucina, un'attività in fattoria piuttosto che una gita a casa. Ecco la mia passione, quantomeno per il titolo, mille e un sogno. Sì, in questo caso è proprio un regalo un po' speciale, magari ci avviciniamo a San Valentino e si vuole fare un regalo un po' più importante al proprio amato e alla propria amata. Questo è un cufanetto da 129,90 euro, che racchiude veramente tutto, dai soggiorni da 1-2 notti, alle attività di benessere come massaggi per due persone, oppure delle scene importanti per due persone. Quindi mi pare di capire che andiamo con Smack Box verso una customizzazione molto diciamo precisa, quindi con delle caratteristiche precise del regalo, giusto? Cerchiamo di avvicinarci sempre di più alle esigenze dei consumatori, quindi non più solo un soggiorno stretto, solo notte con colazione, ma cerchiamo di arricchire l'offerta sempre con delle nuove attività e delle nuove proposte. Quindi una customizzazione, dicevamo, del regalo rispetto ai gusti che si vanno a incrociare o a cercare, elevando tutta la difficoltà di dover organizzare, perché voi praticamente date una realizzazione completa. Va bene, salutiamo e ringraziamo Smack Box anche per questa colazione da Euro Partner che ci ha offerto appunto anche questa giornata di gusto e delicatezza e vi invitiamo a cercare di realizzare i vostri desideri e vedere se li trovate nella gamma che vi propongono. Grazie ancora. Grazie e buona giornata. A nuovo.